E adesso che fai? Alì, alì! Ma che è successo? La gomma! E vabbè, che stava mai, se ti vada la nuova! E come paghiamo l'affitto adesso? Cosa raccontano le mie moglie? 700 euro, se non c'eravate voi! Vabbè dai, calmati! Se non c'eravate, me ne dava alla fine! Guarda che non te ne dava lo stesso! Ma che ne sai tu? E io faccio sputtare, ma alla fine me ne dava! È così che va! Quelli come l'amico tuo, sono fatti così! E vediamo di informare qualcuno che poi si risolve tutto, non ti preoccupare! Ah sì? Ok, facciamo che me lo soffetti voi del problema! Oh, ma lo senti questo? C'è andato a parlare con il padrone di casa che ha dato lo sfratto? Mi trovate voi a un lavoro? Sì, va bene, come vuoi tu ci parliamo, però adesso vieni in macchina con noi! No! Perché mi seguite? Non c'è nessuno che vi minaccia! No, non è così, Alit, ti devi fidare di noi! No, non mi fido più ora! Oh, guarda, Alit, non l'ultima volta! Sali in macchina! Alit! Ma dove vai? Alit! Alit! Eugenio, chiedaci sul cellulare!